Parigi, Parigi, io vado a scattumare. E io mi ne piaccia che era da noi. Andro e Milovi. Andro. E io vado. E io vado a scattare, scattare a scattare. Cattie scattare. Vado a prima di me. grazie a tutti Filippa 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 La 15.000 kW e la 200.000 kW. La Nienti e la Alucrezi e la 15.000 kW. Non dà 200.000 kW. Stai a scelto? C'è un'a voluto a recupero un moldoviano e non mi piace per un moldova? Non lo recunoscere. 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 Va star si ca e cu 5. Vezi daca o pleca da'ici? No, robita si e. Vinistul la noi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.